I carabinieri del ROS hanno portato in carta 5 attivisti dell'estrema destra romana, protagonisti in passato di diverse azioni eversive. A capo del gruppo Maurizio Boccacci, 54 anni, ex leader del disciolto movimento politico occidentale, organizzazione di estrema destra, con lui Stefano Schiavulli, Giuseppe Pieristè, Massimiliano De Simone e Daniele Gambetti. Gli aderenti a milizia, come specifica l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Simonetta d'Alessandro, volevano porre le basi di una guerra rivoluzionaria, contrapponendosi alle istituzioni. Per diffondere le proprie idee di odio razziale ed etnico utilizzavano una rivista denominata Insurrezione, oltre a scritte e striscioni collocati in varie zone della capitale. Oltre ai 5 arrestati ci sono 16 indagati, tra i quali anche un sedicenne è accusato di apologia del fascismo. Secondo l'accusa, Boccacci e compagni facevano attività di proselitismo e indottrinamento politico in una palestra popolare, la Primo Carnera, e nel tentativo di espandersi ricercavano alleanze con altri gruppi estremistici di estrema destra radicati nel resto del paese.